Musica Buongiorno, come va? Tutto bene, lei tutto bene, posto, posto Circa 10-15 anni fa insieme a Guardabassi, che era un autore di testi, volevamo fare un oratorio per il Vaticano Io avevo cominciato a scrivere l'Ave Maria Musica Questo tema era venuto tutto, quasi di getto Abbiamo fatto un primo testo e poi è stato rivisto anche da Alessandro Zambrini che sarebbe mio figlio ed è rimasta a poltrire per una decina d'anni L'idea dell'oratorio, questo tarlo, è rimasto per dieci anni Ogni tanto dico ma io la devo fare questa cosa perché c'avevo anche l'inizio del tema del credo che mi piaceva moltissimo Finchè quest'anno finalmente ho detto io perché non ci lavoro un po' e ho cominciato a lavorarci L'abbiamo rimesso a posto l'Ave Maria, l'abbiamo corretta, poi il credo, il Christellense, il Gloria ha fatto quelle sette parti della Missa Brevis che servono anche per una funzione religiosa Ho chiamato un'orchestra e l'abbiamo registrata E poi abbiamo preso un coro molto importante, bello, bellissimo Diretto da Gea Garatti e poi diretto l'orchestra da Maestro Marchetti Tutte le volte che riprendi il canto dovrebbe ricominciare tutto in una maniera molto più soave, angelica È un'Ave Maria Ero molto curioso di sentire quello che avevo pensato Perché un conto è pensare le cose, un conto sentirle Non tanto l'orchestra perché quello sapeva come sarebbe venuta Quello che mi preoccupava molto era il coro E infatti ci abbiamo lavorato moltissimo il pomeriggio Dando dell'indicazione di come volevo venisse eseguito Perché dal punto di vista tecnico era molto preparato Solo che alcune sfumature solo io potevo indicarle in quanto le avevo pensate in quel modo lì Quando pensavo a quest'oratorio credo mi era venuta l'idea proprio iniziale del credo Credo in un Deo Se lo facciamo come se fosse una cosa che venisse dall'oltretomba Diciamo così, visto che anche la musica è molto sotto molto molto affascinante Allora ha un senso Certo Quindi è gregoriano proprio Però con delle armonie, con un substrato armonico molto vario, continuo E poi dopo di questo ho pensato al Criri E ho fatto una cosa completamente dove gli accordi cambiano continuamente Cristo è lei, 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 Cristo migliori che sono vedute. Mi devi concentrare il maestro per favore. Sol, do, fa, si, i, legato. La, si, re. Non c'è niente di scontato, ecco. Non credo che sentendo questa messa e dice, adesso, dopo aver fatto questa frase, lui fa quest'altra, no. Ho cercato di fare un prodotto, visto che ho sempre lavorato al servizio di qualcosa, questa volta lo facevo al servizio mio, però ho tenuto presente anche il pubblico, che il pubblico deve poter assaporare questa cosa con estrema felicità, ecco. C'è sempre qualcosa di diverso che succede ed è questo che è stato un po' tutta la storia della mia vita, del mio lavoro, insomma, cerco di fare le cose il meno scontate possibile. in questo caso, essendo una cosa che era per me, forse sarà anche per altri, speriamolo. ho cercato di renderlo il più gradevole possibile, ecco. Bravi, ragazzi. Grazie. Per me è stata una bellissima esperienza. Anche per noi. Anche per noi, c'è Francesco Marchetti, che ti ha curato le orchestrazioni. Ha curato le orchestrazioni, molto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.